oh ci sarà il video di noi che portiamo l'avidità oltre a un'anatra cosa ma no perché la gente ce l'ha con le anatre in sto gioco cosa ma mi volete inquietare si mi avete inquietato allora ma lo fanno anche loro no loro no ottimo ma c'è allora faora general Zod jor-el kelex lara von van superman versione 1 d'acciaio tor-an agente di Zod azrael batman batman brave and the bold pazzesco batman il cavallero oscuro e ritorno batman detective comics 27 gotten by gaslight sinestro corpse vampiro zebra vail vail batman gordon joker rajal ghul spavetta pazzesco e membro della squadra suot e due facce ragazzi miei io non li provo vi sto mangiando la testa per il fatto che non li sto provando ma li voglio giocare a momento debito con il dlc se mi fanno giocare qualcuno sicuro si no 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 ahahah ha una versione tutta sua eh Oh. Io! Io! Così potentissimo! No 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 Robin! Ok. Ok? Cia 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 E che cosa sta facendo? Scusate, scusate tantissimo Stavo impazzendo No, tu devi morire Tantissimo con Brian No Così stai zitto, allora Comunque è pazzesco Perché la mappa ti può anche portare Direttamente ai livelli, ah certo Come in Lego Hobbit Si ritende scherzando Vabbè Ragazzi Io in realtà Mi stavo divertendo a caso Perché oggi Mi smetto di filmare Anche perché Vi rendete conto quanti livelli ho giocato oggi? Cioè Dal secondo livello C'è film oggi Cioè dal terzo livello compreso E' un po' tanta roba sapete? Ma Poi so che non ho più tempo Praticamente Per chissà quanto E quindi Ho preferito Usare il mio tempo oggi Per voi Va bene E quindi niente Adesso andate avanti col video E con un altro me stesso del futuro Ma mamma mia Ciao BASTA Ma neanche quando si inizia Dopo aver già iniziato Lui parla sempre Comunque Allora Salve a tutti e benvenuti In questo nuovo video Pensavo di prenderne una anch'io Prigione di nocchia Una speranza blu Io volevo fare l'amore Volevo fare l'amore perché sono curioso Poi boh Da prigione Non lo so Sentite adesso voglio Voglio fare questo Ah una cosa Ragazzi miei Oggi Cerco di concludere la storia Cioè non in questo video che state guardando Oggi Io che sto giocando E Per me Sarà L'ultimo Giorno Che filmo Nel 2014 Già Già E voi vedrete anche altre cose Che non sto filmando oggi Nei prossimi giorni Sempre su Rago Batman Ma Ehm Ciao Cosa sto dicendo Ma Ehm Scusate Sono Davvero impallidito di sta cosa Perché Cioè finisco Lego Batman L'ultima cosa del 2014 Poi boh Lego Batman Esplorazioni Sarà la prima cosa che farò nel 2015 E abbiate pazienza Perché le feste Sono le feste anche per me Quindi nel 2015 Boh Nella prima settimana Nella seconda Probabilmente Nel 2015 Arriveranno i video di esplorazione Lasciatemi infatti qualche Tempo Per avere il video Ecco Tutto qua La forza dell'amore Vai così Tutto rosa Che bello C'è un dinosauro? Zemano Rosa Dai Da quando l'amore è nero Sì Ok No Miei Flash Ho un pessimo presentimento Non toccarli Ecco Fermi intrusi Osate rubare a casa nostra? No Noi volevamo solo Silenzio Cos'è questo? Un uomo metallico senza cuore? Che orrore Sapphire All'attacco Allora Bella la vita Quando la gente si attacca Però noi adesso siamo fermi Appena mi muovo Mi ammazzano? No Adesso ci stanno attaccando davvero Grazie per aver aspettato la fine del discorso Ora usiamo Mazzancolle Mazzancolle Cosa ho fatto? Ho fatto questo Volevo usare appunto Marsha Perché Non l'ho mai usato Ma Signora Cioè Cosa pensa di fare là sotto? Eccola L'ho salvata Eccolo Blocchiamo quel portale Fermeremo i loro attacchi Buona idea Uno di loro potrebbe rubarmi la maschera Cosa? Ucciso Ci vedeva tanto? Ah Chi è che serve? Serve Cyborg qua Bam Oggi non me ne va bene una Adam West Ti ho sentito ma sei nel buio probabilmente Muore Muore Continuo a ripeterlo Come Cyborg uccide e non uccide nessuno nella vita Da 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 Flash Uno Due Tre Scusi Zamaroniana Ora l'ho ucciso subito Cioè quasi subito Aspetta Devo fare il giardiniere E poi la uccido C'è Marshall La Marshall Vabbè Marshall Man Bumper Bam Che stava sul fiore Cosa provate ad attaccare sto coso verde che tanto appena arrivate Faccio Uffa E morite Listo? Vieni qua Eh Però è troppo facile ucciderli così Più bello usare questo Cioè Lui normale Ok Vieni qua Ottimo Ho tolto l'elettricità da lì E adesso la metto La metto Sì Sì vabbè Bravo Cyborg Ah no Uno su cinque Ho sbagliato tantissimo Non è questo che devo fare Ma cosa c'è qua dietro? Aha L'ho visto Uffa Vai così Lo carichiamo E apriamo la porta Rosa Globo rosa Cioè Era la bolla rosa intendo Anche questa Poi Il globo nel senso terra Anche quello è rosa però Uso flash Perché non devo perdere Non stavo usando flash Beh ma Che cosa Fatemi entrare Ok Ok Non mi hai fatto entrare? Morirò No se volevo dire Tiro questa leva No volevo dire morirò Sono un po' incasinato Ah non è una leva Ah Ah Ok Non ce la farò mai più Ah Sfidare la morte Ehi cosa Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Vattene via da lì flash Grazie Ehm Mi sono perso Ehm Mi sono perso Ah Lavatrice Ho sbagliato tantissimo Lavatrice No Lavatrice ho detto E invece no Ehm Ehm Non deve essere così difficile Maledetto Gioco allego difficile Ok non c'è minikit però c'è tanta rava Ueppa cos'è qua? Cioè cos'è? Lo so cos'è però Sì vabbè Atterra anche in modo migliore Lui ovviamente non può farlo Questo non posso distruggerlo C'è qua C'è qua Aha Scusate eh Se sono imbecille Però sono imbecille Ehi Ben Hunter Non lasciarci qui Non temete Distruggerò la fonte d'energia Per disattivare il campo di forza Prima uccido tutti Poi faccio quello Ueppa Ora sono grosso e verde E vai Ora cerchiamo di entrare Forse il raggio di energia di quella statua ci aiuterà Voglio... Anch'io una statua Hai una statua nella sala della giustizia Ma voglio anche quella Cosa? Cioè non sappiamo cosa Però vabbè Bellissima la trasformazione dalla lavatrice A questo No? Ok Ah! Non c'è più mira E ovviamente cosa facciamo se non un cuore? Eh? Ovvio Maledetti cuori Non posso montare Ora si però Cioè è così Part time Va bene Flash ho bisogno che tu faccia un po' di ginnastica Io odio la ginnastica lo sai A me piace fare questi che non posso fare E invece no Puoi fare soltanto quello Ma questa abilità è mia È mia soltanto Sì esatto Vedo che Stai diventando davvero Molto Avido Le porte si aprono così oggi Il raggio ti distrugge un fiore Lucente E fine Yeah Doppio yeah Ok salve Poteva morire in modo migliore? No Mamma mia quanto sei lento Cyborg Sì però muoiono troppo velocemente Davvero Cioè davvero l'ha ucciso lui? Volevo ucciderlo io Io soltanto No no aspetta Ho paura dei bunker Grande Flash comunque Li stai uccidendo davvero tutti Madre mia Madre mia Quando litigo quei tasti Mi odio Mi sembra chiaro che devo andare lì Ma prima devo caricarmi O sbaglio? Bello Davvero No mi sa che posso farlo già così Allora Scusate che Infatti i tastini laterali come sapete non mi funzionano Non so perché C'è qualcosa che mi sfugge Allora Lui che è verde No lui che è verde Voglio vedere una rossa Niente Può andare qua dentro? Ah aspettate Ma qua c'è dell'energia E posso comandare un tizio Ueppa Bellissimo Yeah Yeah Sono una tizia con una lancia E uccido i miei fratelli E basta Aspettate che voglio uccidere Tutti quanti Con lei Vieni qua Pensi che non sia cattiva Invece lo sono Sì ok Basta Eh Lui Diventa vetro Schiaccia vetro Diventa coso Scarica coso E nessuno entra più Spam Chiudiamo una porta Uè questo qua non me lo lascio mica stare Chiudiamo questa porta E andiamo a Aprire l'altra Mi sembra logico Eeeb Bam Ok Attenzione Ce la puoi fare Più o meno È enorme È mia Attento Flash Dubito che sia Incustodita Cosa? Un drago? Eh? Ma 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 Smaug è effemminato Dovrebbe farmi parecchia paura Sarebbe mitico avere un animale così Lo voglio Il campo di forza Siamo in trappola In trappola? Oh no Game over ragazzi Game over Mantieni la calma Cyborg Serve un modo per combattere quell'animale Lo sto trovando caro mio Boss fight a caso davvero Cioè mi piace un sacco Lanciamo bombe con un'arpa? Va bene Sempre fatto nella vita io Ma cosa balli? Eh? Questa scena spero di non vederla mai più Nella storia Ma come faccio a ucciderlo? Ah certo Mamma mia Cioè Si sta ricomponendo? No Cioè si Però dopo Wow Adoro queste uccisioni così Yeah Mamma mia Lo sai che stai picchiando al vuoto vero? Eri eccolo qua Ehm Non guardarmi così male Accidenti ma che paura Accidenti ma che paura Basta Ok Uh bello Grotta dei segreti Cosa mi rivelerai? Questo Ah facciamo una bella frana Franiamo la frana Che cosa? Ah le radici Che piangono Ok Ok Tanto io posso volare Ho detto ho detto Tanto io posso Gli odio Non posso andare di là Forza Yeah Ok 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 Due la vendetta Quella creatura sembra avere un debole per i sentimenti Non vorrai che le chiediamo un appuntamento No No però Cioè La stavamo guardando Mi ha ucciso un po' tanto Mazza mia Non mazzancolle Mazza mia Cioè ho visto tra mazzancolle e madre mia Ah Ecco Non uccidermi ti prego Aiuto Dai che ce la faccio Dai che ce la faccio Aiuto Ok Dov'è Flash? No davvero Dov'è Flash? E' andato a prendere qualcosa che non è suo Dicendo che è suo Flash Grazie Mamma mia Wow E adesso No non voglio Vabbè con Flash è facile evitare il braccio Ok Dov'è? E' nascosto Bam Evito su lui scombare Stiamo davvero chiedendo un appuntamento Ah non posso sedermi sulla sedia Volevo sedermi sulla sedia Ed ecco qua amore Un bel piatto Esplosivo Ok Lo rivolgo indietro E' mio Cosa? Eeeh Di qua? Salve eh Poteva anche salutarmi in modo più decente invece che saltarmi addosso Eh Dov'è Flash? No E' tornato ancora Hai detto che questo posto non faceva paura manhunter e ti ho creduto Cyborg Dobbiamo cercare di restare calmi e concentrarci sul nostro compito Per esempio Ma si può anche fare Diversamente Ah Ok Cosa? Ci vuole Bremiak qua Ok Non ditemi per favore qual'è l'abilità di Bremiak che serve lì perché voglio capirlo da solo Ma mi incuriosisce un sacco E' tipo roba lucente nera Cioè Mamma mia Allora devo uccidere quel tizio no? E mi sembra facile Non così No seriamente mi sfugge Non mi sfugge nulla Eh Dov'è Marshall? Dov'è Marshall? Ormai lo chiamerò Marshall E fai così per favore Grazie Vieni qua Ciao 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 Le mie scuse signore L'amore è un'emozione difficile da domare Salve Star Sapphire Ti porto notizie da Al Jordan Ci serve il tuo aiuto per annullare i danni provocati da Bremiak al pianeta Terra Per Al questo e altro Fai strada Miei 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 Un pallone da calcio Lego La forza dell'amore è un livello davvero interessante Perché non succede nulla Cioè Infatti lì apro una porta Cioè Chiudo una porta, apro una porta Chiudo una porta, apro una porta Apro una porta e uccido un mostro Ah Ok No vabbè seriamente Carino livello Tutto qua Tutto qua Non è come il livello scorso che comunque era più dinamico Cosa? Ed è utilizzabile? Da subito? Subito ragazzi ok Ok Ora a questo livello mi piace No scherzo Ehi aspera 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 Cos'è sto video? Comunque devo provare la tizia Wow Finale segreto Cioè in realtà questi video li uso come inizio video di quello dopo Ma questa volta no Devo provare la signorina Calma 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 Attenzione Me l'aspettavo Eccola qua Ma Cioè non la devo neanche tirare fuori Che è già qui Allora Signora Ovviamente si muove come di suo solito Perché è una donna Poi salta E vola Ovviamente Wow Cosa? Erano dei cuori Oh madre mia Pezzo di cuore Unisce il cuore Spara cuore Questa è la mossa Capite? Sì davvero Cioè pezzi di cuore Unisce il cuore Spara cuore Cioè no In realtà sono tutti quei cini Che poi li unisce In un cuore più grosso Ma è bellissimo Poi vabbè Spara Ovviamente Eeeh Tengo premuto Fa il racino Con quale posa me lo sta facendo Poi non lo so Ma vabbè Cioè ok Cyborg muori anche tu Eeeh Posso mirare Ovviamente Eeeh Eeeh Niente E vola Sparando Ovviamente Spara dei cuori O robe rosa E basta Roba rosa E basta Va bene Salto attacco No non fa Non fa tipo Il cuore gigante Qualcosa Soltanto Eeeh Va bene Ho chiesto in giro E la migliore descrizione Che mi è stata data È grande Ok Ci vediamo al prossimo video Questo qua Non lo amo Però lo devo picchiare con i cuori lo stesso Perché ho lei Ci vediamo nel prossimo video Davvero Grande Scatola nera Che fa vedere le figure Di cui parlano Ah ah L'ho detto insieme a te Conan o Conan Va bene Ci vediamo davvero al prossimo video In cui faremo Ah Non lo sapete mai